Siamo con Marco Testa e Jacopo Nasta dopo Scarrafigi-Murazzo 1-0. Un'opinione Jacopo di questa partita, una tua opinione. Diciamo che è stata una partita molto combattuta sotto tutti i punti di vista. Noi magari siamo meno abituati con questi campi eccetera, però loro hanno giocato secondo me meglio di noi. Potevamo far meglio anche sotto porta, però diciamo che alla fine il risultato poteva anche darci un po' più una mano a noi. Magari un pareggio era anche più giusto. Il migliore dello Scarrafigi? Secondo me il migliore dello Scarrafigi è stato l'Euro 10, che ha giocato molto bene. Infatti è andato via parecchie volte e ci ha messo in difficoltà. Marco, la tua? Sì, la tua squadra è stata una partita con poche occasioni da gol contro due squadre che comunque provano a giocare il loro gioco. Forse ovviamente il pareggio era quello giusto, non ci vorremmo che assista ai punti fondamentali. Dimostrando che siamo una squadra solida, quadrata, che è difficile comunque ammere in difficoltà. Il migliore del Murazzo? Il numero 10. Sono un giocatore che siamo più riusciti a limitare bene. I due 10 per inciso sono Jacopo Unasta e Serino. Grazie. Grazie.